Davio Mattoni allena il Bastia che oggi ha giocato la sua onesta partita qui a Gavorrano. Che cos'è mancato, Ministro, la sua squadra per fare qualche cosa di più di quello che effettivamente non è stato fatto? Sì, ha detto bene lei. Una nostra onesta partita, anche una buona partita. Abbiamo tenuto testa una squadra comunque con giocatori importanti. Abbiamo tenuto bene il campo e che rimproverare? Niente dal punto di vista dell'impegno e del gioco, paghiamo sempre delle ingenuità veramente a caro prezzo. Gavorrano se lo aspettava così sinceramente o un po' più diverso? Me lo aspettavo un pochino diverso, un pochino più aggressivo. Evidentemente io e il mister ci conosciamo, quindi un pochino di rispetto me l'ha concesso e quindi ha fatto una partita abbastanza coperta, non volendo rischiare niente perché sapeva che comunque, soprattutto in occasione delle palle inattive, ci avrebbe messo in difficoltà. E così è stato. Grazie mille. Grazie.